Benvenuti ragazzi a un nuovo video di Mr. Macintosh Oggi parleremo del download gratuito di Rollercoaster 3 Tycoon Platinum Ovvero quello che comprende tutti i pacchetti del 3 Per chi non lo sapesse Rollercoaster 3 Tycoon Platinum È un gioco dove noi dobbiamo creare il nostro parco di divertimenti È un gioco ideato da Aspyr Media Lo stesso che ha fatto anche Call of Duty, Civilization, 5, Call of Duty 2 e altri giochi Abbiamo tre pacchetti, quello classico, quello della savana e quello dell'acqua park È un gioco molto popolare e noi scariremo l'app nativa Di solito sull'Apple Store è a pagamento e al prezzo di 27€ Ma noi tramite un torrent faremo tutto gratuitamente Chiudiamo Apple Store Allora, un zipate è questo file qui E avremo questa cartella Apriamo la cartella e dentro troveremo un file RTF Aprendolo noteremo subito che c'è scritto C'è il link del canale qui E link ad aggiungere ad add Managent e tutto Voi lo copiate e lo incollate su utorrent Quassù Una volta fatto si avvierà il download Poiché non è molto pesante Non ci metterà molto All'incirca mezz'ora Una volta finito il download Comparirà questo Comparirà un attimo Questo DMG qui Che noi andremo ad aprire subito E partirà l'installazione Come potete vedere È facilissimo Basta trascinare Rollercoaster 3 Platinum Nella cartella applicazioni Io ovviamente l'ho già fatto Adesso andremo ad avviare l'applicazione Per farvi vedere come funziona Ho bene fatto L'installazione guidata E il gioco è già funzionante Funziona sempre E il file che dovrete scaricare da internet È sul Dropbox È un gioco dell'Atari Ideato nel 2004 Ed eccolo qua Voi potete decidere se lanciarlo In una finestra O a tutto schermo Io per motivi di praticità L'ho lanciato come finestra Ecco qua la schermata d'avvio E una volta che è caricato Possiamo scegliere se giocare Creare E le opzioni Il video finisce qui Ragazzi è tutto E ricordatevi di mettervi Di mettere un mi piace E di iscrivervi Per non perdere il prossimo video Su un altro gioco Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi